e ciao a tutti ragazzi al vostro mascarato ben ritrovati anche oggi qui sul mio canale nuovo video unboxing questa volta a tema full metal alchemist ma prima di iniziare sigla ed eccolo qui l'ultimo pezzo che mi arriva in collezione mega house precious gem direttamente da full metal alchemist roy mustang e risa questo ovviamente ragazzi è il box che inquadra principalmente la nostra figure nella sua interezza ovviamente ci sono i vari lati dove qua vediamo in retro roy mustang anche qui la nostra figure inquadrata da un'altra angolazione con i vari dettagli e le varie scritte ovviamente dall'altra parte potete vedere il retro c'è risa qui ovviamente ragazzi precious gem full metal alchemist mega house in basso è la serie ma unboxiamola e vediamola subito eccola qui appena unboxata come sempre vi faccio una piccola panoramica a distanza della nostra figure vedete basetta molto grande e rotonda ovviamente serigrafata full metal alchemist con i nomi dei vari protagonisti poi abbiamo risa in basso e roy mustang in piedi ovviamente risa ragazzi è pressoché staccabile dalla base quindi praticamente potremmo andare a metterla come e dove vogliamo mentre roy mustang al solito dai vari piccoli piolini dove va agganciato ma adesso ve la faccio vedere direttamente nel dettaglio l'apertura ovviamente su roy mustang ma prima vi faccio vedere la base vedete qui scritto full metal alchemist con il cerchio alchemico sotto di roy mustang qua ovviamente i nomi roy mustang e risa o kais vi faccio vedere prima direttamente roy mustang qui il viso ok ragazzi devo essere onesto non è il top di gamma per mega house ovviamente i vari dettagli dell'uniforme di roy mustang anche se poi la metterò a paragone con un'altra figura di roy mustang vedrete che forse ha meno dettagli del previsto ovviamente il cerchio alchemico del guanto di roy mustang anche oggi il telefono mi impazzisce qui il giaccone nero comunque ragazzi è molto bella piccola devo essere sincero non è il top di dimensioni anche questa volta mega house sbaglia su questa linea per contribuire delle dimensioni però sculpt e painting sono eccezionali come al solito adesso mettiamo anche risa io la metto praticamente così la possiamo mettere come e dove vogliamo anche lei andiamo a inquadrare nel teio risa invece ragazzi è perfetta fedelissima in ogni suo particolare la scena come potete vedere stellare molto dinamica risa ovviamente questa posa andiamo a inquadrarla anche lei sul retro così ovviamente è come si vede a distanza ora ragazzi vediamo se riesco a mettere in questa base girevole anche edward e alfon selerich così ve le faccio vedere assieme vi faccio il paragone fra lui e quello della kotobukiya eccole qui le 4 figure praticamente della serie precious gem della mega house vedete sono molto molto di impatto ovviamente sono parecchio dinamiche breve panoramica sia avanti che dietro ovviamente ragazzi assieme stanno una favola molto dettagliate tutte e 4 roi mustang risa alfons ed edward sono qui molto molto belle adesso vi metto come vi dicevo prima a paragone al roi mustang della mega house che è questo ovviamente è quello della kotobukiya eccola qui la sua controparte della kotobukiya potete vedere ragazzi ritengo l'espressione della kotobukiya nettamente più fedele è somigliente al personaggio rispetto a mega house che ogni tanto floppa totalmente i volti dei protagonisti maschili come vi dicevo sono festeggi guardate il dettaglio della kotobukiya è quello che manca nella mega house sono dettagli piccoli che comunque penso faccia una differenza poi ovviamente ripeto come sculpt e painting nel dettaglio preferisco sicuramente la kotobukiya soprattutto la colorazione molto molto più chiara e ovviamente come vi dicevo prima kotobukiya è molto più generosa anche per quanto riguarda le dimensioni della figure sono entrambe scalone a 8 se non erro ora ragazzi ovviamente vi farò l'ultima breve panoramica per il nostro roi mustang e risa mega house e chiudiamo eccoci qua di nuovo a distanza per inquadrare ovviamente questa spettacolare figure di full metal alchemist con il predonista roi mustang e risa ovviamente roi è il mio personaggio preferito della serie vi invito sempre ragazzi a iscrivervi al canale e attivare la campanella così potete restare sintonizzati sui prossimi arrivi che spero arriveranno in breve questa è l'ultima breve panoramica della nostra figure ovviamente consigliata eccola qui molto dinamica soprattutto ragazzi insieme ad eduard e alphonse se li avete fa davvero un ottimo impatto visivo e che dire dai nostri protagonisti è tutto anche da mascarato al prossimo video